Come compilare la tua scheda clinica Digita sul tuo computer l'indirizzo Internet stampato sulla card trovata nella confezione. Inserisci il PIN associato al tuo codice. Scegli la tua nuova password. A questo punto digita il tuo indirizzo e-mail. Premi il pulsante Invia. Conferma il tuo indirizzo e-mail e la password generata precedentemente. A questo punto sei pronto per scrivere i tuoi dati personali. Come prima XA importa una tua foto a bassa risoluzione. Poi compila i campi con i tuoi dati anagrafici. Grazie. 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 Inserisci e conferma il tuo gruppo sanguigno. Il numero della tua tessera sanitaria. Prosegui quindi indicando se sei allergico a qualche farmaco. Indica le tue eventuali intolleranze alimentari. e le tue allergie. Ora puoi digitare eventuali vaccinazioni effettuate nella tua vita. Grazie. 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 Grazie a tutti. Nei campi successivi puoi indicare i numeri di telefono delle persone che vorresti contattare in caso di incidente o malore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infine aggiungi alcune notizie che ritieni importanti sul tuo stato di salute. Indica eventuali malattie infettive avute o per cui sei stato vaccinato. Negli spazi dedicati alle note puoi inserire ulteriori informazioni che potrebbero salvarti la vita, come esiti delle ultime analisi e valori del tuo elettrocardiogramma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora il tuo gioiello è attivo. Ricorda che l'inserimento dei dati in modo corretto potrebbe salvarti la vita, se hai dei dubbi fatti aiutare dal tuo medico curante. Per capire come leggere il codice del tuo gioiello, segui le indicazioni stampate sulla carta e sul manuale, trovati all'interno della confezione. Grazie per aver acquistato Ealtcode, ricorda sempre che la tua salute è preziosa. Grazie a tutti.